eccoci qua ci siamo anche oggi buongiorno e ben ritrovati puntuali come sempre dieci passate da dieci e trenta passate da pochi minuti un caro saluto nel nostro salotto di ciao como e di immagine più il nostro como caffè appunto oggi è popolato come potete vedere da ben tre donne non sarà facile tenerle a bada ma proveremo sicuramente anche perché poi l'argomento di oggi è un argomento che credo deve assolutamente interessare tutti i comaschi e non coloro che verranno a como in questi giorni proprio in concomitanza dei ponti di primavera e di pasqua ovviamente parliamo della nuova nuovissima app di asf messa a punto in questi giorni e allora c'è l'amministratore delegato annarita polachini buongiorno buongiorno grazie di essere venuta a trovarci laura carcano responsabile del progetto innovativi di asf buongiorno laura e barbara ligregni del ced di asf quindi una nutrita e importante rappresentanza di asf l'azienda di trasporto pubblico che lo diciamo subito in questi giorni a sì è proprio una cosa di abbastanza recente no dottoressa polachini ha lanciato questa app e spieghiamo allora che cosa si tratta poi ovviamente andiamo anche a prendere il caffè se lo gradite a metà mattina ci sta bene assolutamente parliamo subito di questo servizio di questa app di che cosa si come cosa in che cosa consiste è un app aziendale quindi riguarda essenzialmente il servizio di trasporto pubblico non solo infatti dopo vi spiegherò meglio una una caratteristica tipica nel senso che abbiamo voluto anche far scoprire il territorio perché abbiamo un territorio meraviglioso esattamente però in prima istanza ovviamente la parte che riguarda il trasporto pubblico e quindi la ricerca di itinerario il calcolo degli orari gli orari stessi in pdf piuttosto che tutto l'arrivo in tempo reale degli autobus abbiamo ritenuto che fosse la parte diciamo colla la parte importante della della nostra app ecco tutto questo lo abbiamo messo anche noi sul nostro sito il giorno della presentazione basta un click sul telefonino sostanzialmente no basta sapere usare non essere dei geni basta fare due click sul telefonino e si e si usa l'app giusto assolutamente dico riesco perfino io utilizzarla io che ero e facili vostra stia che sono rimasta attaccata al mio telefono che faceva solo il telefono fino a poco tempo fa anche io quello infatti era una cosa però devo dire che questi smartphone quindi che fanno oltre le telefonate anche danno la possibilità di essere connessi di scaricare le app hanno delle funzionalità che ci permettono in tempo reale veramente di avere a portata di mano un sacco di cose tra quale anche appunto l'utilizzo del mezzo pubblico Laura l'hai sperimentata tu questa app giusto? sì l'abbiamo sperimentata ecco l'abbiamo perché è stato un lavoro abbastanza lungo abbiamo cercato di rendere l'app il più facilmente utilizzabile possibile diciamo fornendo anche io ho visto devo dire che dopo lo mostreremo ancora alla fine della nostra puntata di como caffè avremo anche un video faremo un video proprio apposito dove voi spiegherete proprio nel dettaglio quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguirci perché è davvero facile è facilissimo da usare giusto Laura? noi abbiamo cercato di fare il possibile quindi dovrebbe essere abbastanza intuitiva c'è appunto una parte dedicata ai trasporti e l'altra parte dedicata alla città di como e non solo quindi ci sono informazioni sugli eventi che si terranno nella città eventuali mostre un po' di informazioni varie su tutto il territorio il lago eccetera cosa c'è da vedere quindi uno ecco è chiaramente chiediamolo anche a Barbara una un'app anche certamente improntata per chi viene da fuori il como giusto? sì anche per un turista ovviamente sì ovviamente anche perché facilita l'utilizzo anche degli orari e inquadrando i percord alle fermate è possibile il tempo reale e quindi quindi si può vedere in tempo reale l'arrivo del pullman tra l'altro giusto? sì sì ecco io questo non l'ho sperimentato però se me lo dite voi io ci credo assolutamente cioè se il pullman per dire è in ritardo di qualche minuto sulla tabella di marcia lo si vede? esatto verranno visualizzate appunto i minuti di ritardo e quindi l'utente può aspettare uscire dal bar cosa veramente perfetta no no veramente molto bella questa app come si chiama tra l'altro? arriva SF arriva SF esattamente perfetto allora beh allora visto che siamo a Comuncafè ovviamente siamo a metà mattina siamo alle 10 e adesso ve lo dico subito a 10 e 38 e le nostre ospiti gradiscono un caffè sì ovviamente sì ovviamente no no ma certo siamo venuti apposta ci fa piacere che siete venuti davvero non è stato facile portarvi qua perché insomma so che la dottoressa soprattutto è piena di impegni istituzionali e non quindi avervi qua oggi è un semisuccesso però ci fa piacere offrire allora un caffè per tutti e tre? normale? normalissimo ok perfetto allora faccio anche il cameriere in attesa di avere che so le vallette tra qualche tempo ci stiamo attrezzando anche per questo e allora tre caffè oggi anzi quattro compreso il conduttore ovviamente per Comuncafè e poi continueremo alla nostra puntata dedicata oggi lo ricordo a ASF questa importantissima app che è stata messa a punto e ve la mostreremo poi appunto anche nel dettaglio e poi ovviamente visto che c'è anche l'amministratore di ASF parlerei anche dei risultati davvero importanti che l'azienda Comasca del trasporto pubblico è riuscita a ottenere è proprio notizia di a pochi giorni fa quindi un bilancio decisamente ottimo giusto? si diciamo che siamo soddisfatti di questo risultato si soprattutto perché ovviamente il nostro settore è un settore un po' difficile diciamo e quindi riteniamo che per un'azienda sia comunque importante avere un risultato positivo forse siamo un po' più orgogliosi perché il nostro settore in generale è un settore comunque molto molto difficile in cui avere dei risultati positivi è ancora più difficile che nel si perché riuscire appunto ad avere un risultato decisamente importante un risultato di bilancio importante con un utile di quasi 3 milioni ecco quasi 3 milioni insomma è un risultato che secondo me merita veramente attenzione ecco come si riesce ad avere un risultato però così dottoressa adesso io lo so me ne rendo conto che sui due piedi non si riesce a dare una risposta appropriata ma 3 milioni insomma non è uno scherzo no oggettivamente abbiamo abbiamo un fatturato di un poco più di 40 milioni di euro e quindi avere un utile da distribuire ai propri soci di circa 3 milioni è comunque un risultato importante è un lavoro di tutti quindi non è soltanto il lavoro della direzione ma soprattutto il lavoro anche di tutti i dipendenti e di un'attenta e utile fruizione del servizio di trasporto pubblico perché se noi non avessimo i nostri clienti oggettivamente la ragione di essere non verrebbe a cadere beh perfetto questo è un'altra cosa della quale volevamo parlarvi oggi perché avere qui appunto l'amministratore di ASF è importante anche da questo punto di vista oltre ovviamente a parlare della app eccolo qui intanto il caffè quasi come al bar wow grazie gustatevelo tranquillamente poi andiamo a parlare continueremo a parlare nel nostro como caffè di oggi appunto con i vertici praticamente di ASF che sono venuti a trovarci abbiamo già parlato allora di questo importante risultato di bilancio decisamente notevole e continueremo poi adesso anche a dare qualche altra curiosità per quanto riguarda questa app e poi è un altro servizio che io personalmente ho sperimentato anche la novità anche di questo 2015 i biglietti che si fanno sul pullman devo dire che funzionano in maniera assolutamente almeno per quanto riguarda la tratta che ho fatto io in maniera assolutamente perfetta con appunto la possibilità se uno non ha la possibilità di acquistarlo a terra di può salire a bordo e lo fa tranquillamente gustiamoci il caffè intanto e poi appunto continuiamo il nostro discorso con lo ricordo Anna Rita Polacchini amministratore delegato di ASF Laura Carcano e Barbara Ligregni che sono venute appunto a trovarci a quest'oggi per spiegarci anche e soprattutto a quest'app ma innanzitutto con l'amministratore delegato dicevo dopo aver parlato di questo straordinario risultato di bilancio quindi vuol dire che una domanda che negli anni scorsi spesso si faceva magari qualcuno faceva il portoghese non so saliva sul pullman e non riusciva anche a non pagare ma era difficile ma qualche volta succedeva tutti pagano regolarmente no dottoressa devo dire che il nostro tasso di evasione è basso rispetto alla media nazionale questo sicuramente ma soprattutto grazie a questo nuovo accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri dipendenti con la possibilità di vendere i biglietti a bordo riteniamo che anche coloro che lo facevano probabilmente dico in buona fede perché non trovavano la rivendita aperta o comunque non sapevano dove fosse adesso sicuramente non hanno più no ma questo va detto è molto importante questo è molto importante perché in effetti a volte davvero diventava soprattutto magari in alcune zone non parlo di comocittà ma magari qualche paese esatto in alcuni orari in alcuni orari esatto diventava un po' complicato trovare appunto il biglietto adesso uno sale semplicemente a bordo dell'autobus c'è una piccola sovratassa anche perché mi sembra corretto che sia così perché oggettivamente è un servizio che diamo in più non andiamo ovviamente in concorrenza con le rivendite quindi se uno è previdente se lo acquista a terra e ovviamente costa di meno nel contempo per chi sale a bordo senza avere conoscenza approfondita del territorio anche uno straniero anche uno straniero può salire tranquillamente è previsto appunto che può fare il biglietto a bordo questo è da qualche mese che è entrato in funzione questo è entrato in funzione l'accordo l'abbiamo sottoscritto è entrato in vigore diciamo alla fine di gennaio i tempi tecnici per mettere in moto la macchina diciamo diciamo che sono alcune settimane che funziona avete tratto anche fatto un referendum diciamo così chiamiamosi no è un referendum vero e proprio con i vostri autisti avete chiesto la loro opinione alla fine è prevalsa ovviamente la linea del sì diciamo che è stato sottoposto a referendum un articolato accordo di secondo livello che fra le altre cose prevede anche la vendita a bordo non solo quello c'è il rinnovo del premio di risultato c'è l'utilizzo dei tablet e l'uniformazione di trattamenti tra urbano e esturbano quindi è una cosa piuttosto complicata e nel complesso i nostri lavoratori hanno dato un giudizio positivo su questo nuovo accordo bisogna dire lo diciamo anzi anche con orgoglio c'è anche un'azienda che funziona bene un'azienda di trasporto pubblico un'azienda pubblica quindi che funziona bene a Como sia per le linee urbane che per le linee extraurbane quanti pullman avete complessi così per curiosità lo stavo pensando prima quando stavo venendo qui in studio chissà quanti pullman ha l'ASF l'ASF ha oltre 300 pullman per bacco in giro tutti i giorni ecco tutti i giorni tra l'altro sì 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 certo ovviamente non c'è una parte di autobus che vengono considerate come si suol dire di scorta per garantire le operazioni di manutenzione e pulizia però abbiamo oltre 300 autobus in questo momento sono 303 di cui 65 sulla rete urbana di Como e i restanti sono sulla rete extraurbana ecco mi viene in mente poi dopo le faccio bere il caffè perché se no altrimenti si raffredda per Expo visto che ormai siamo ad un passo e possiamo anche davvero già tirare le somme avete previsto un incremento dottoressa avete previsto come ASF un incremento del parco medio abbiamo previsto oggettivamente di dare supporto a uno dei nostri soci che è il socio Arriva che ha vinto il concorso di Mobility Partner che quindi gestirà la parte dei parcheggi e delle navette su Expo e in questo caso forniamo un piccolo supporto con un paio di autobus per appunto fare le navette abbiamo comprato effettivamente e poi dopo entreranno ovviamente in servizio regolare due pullman uno è già in servizio l'altro arriverà la prossima settimana Euro 6 quindi di nuovissima generazione che andranno a supporto appunto della nostra flotta nello specifico il fatto che abbiamo lanciato l'app adesso è anche esso un piccolo segnale che riteniamo comunque importante che si possono fare anche per coloro che arrivano dare un supporto per visitare il territorio perché ricordiamoci che sono un sacco di turisti alcuni di quali arrivano dall'altra parte del mondo e molti di questi hanno l'abitudine di utilizzare il trasporto pubblico no anzi assolutamente perché all'estero è una delle cose prioritarie il trasporto pubblico a qualsiasi località si va nel nord Europa in modo particolare il trasporto pubblico diventa una cosa assolutamente normalissima noi forse non è così o sta diventando probabilmente negli anni scorsi forse non era così però ecco all'estero è vero quindi qui chi arriva è giusto dare l'opportunità di avere la possibilità di girare ed ecco perché è stata messa a punto questa app adesso mi sposto io così sentiamo anche chi ha ideato allora questa app innanzitutto Laura è solo in italiano l'app? Allora per adesso è in italiano ma in vista di Expo diciamo per l'estate quando prevediamo che l'afflusso di turisti sia abbastanza importante e maggiore la predisporremo anche in inglese interamente in inglese una cosa importante dell'app che non mi pare sia stata detta per adesso è che abbiamo anche cercato di inserire delle convenzioni per i nostri abbonati quindi gli abbonati SF troveranno una parte che si chiama shopping dedicata a loro dove stiamo cercando di raccogliere degli sconti proprio appunto dedicati a chi si presenta alle casse eccetera con il proprio abbonamento SF valido e un documento di identità ad esempio siamo riusciti a ottenere uno sconto con il teatro sociale del 20% per l'abbonato naturalmente e con il Bennett abbiamo stipulato una convenzione tale per cui con mi pare 2000 punti si può ricevere un buono sconto da utilizzare alla cassa in via Matteotti e quindi si potranno comprare gli abbonamenti di SF con i punti del Bennett esatto esattamente e quindi è una sorta di aiuto anche alle famiglie di supporto assolutamente che scusatemi invece di prendere piatti, porchette no 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 è una cosa molto interessante questa assolutamente vogliamo scherzare è giusto no no è giusto quindi sottolineare anche questa cosa quindi c'è la possibilità di usufruire di questa agevolazione diciamo così solo per gli abbonati giusto Laura? per gli abbonati per adesso adesso abbiamo una decina di attività che hanno aderito a questa cosa speriamo di incrementare il numero in modo da appunto fare pubblicità a queste attività commerciali e in cambio dare un servizio aggiuntivo ai nostri clienti ecco facciamo l'ipotesi poi lo mostreremo ripeto a fine del nostro trasmissione a fine di Como Caffè e a proposito io vi chiedo ancora se non l'avete fatto di iscrivervi anche al nostro canale di Como Caffè così poi starete aggiornati anche su tutti gli altri ospiti grandi ospiti che sono sempre venuti a trovarci in queste settimane chiuso l'inciso dicevo Laura facciamo che io sono uno che non sa usare il telefonino come diceva la dottore in effetti siamo abbastanza su questo livello cosa devo fare per scaricare l'app? adesso uno dice cosa diavolo devo fare? com'è il percorso? allora attualmente basta andare sul proprio play store o sullo store delle app quindi utilizzabile da smartphone Android o gli iPhone Android e iOS che è Apple diciamo ecco quindi andando sul proprio app store si può scaricare l'app cercando il nome arriva spazio ASF ecco spieghiamo arriva ASF e stiamo anche predisponendo dei volantini dei pendolini da appendere agli autobus lì troverete invece il QR code inquadrando il QR code sarà direttamente possibile scaricare l'app sul proprio smartphone quindi è velocissimo è una questione proprio di è già sul mercato disponibile gratuitamente quindi ecco questo è molto importante è gratuitamente l'app si scarica gratuitamente avete già un dato di quante ne sono state scaricate oppure vi chiedo troppo? ma allora i dati aggiornati qui è Barbara che è l'esperta sì abbiamo circa 700 download per Android e 480 per l'iPhone mi pare un bel risultato sicuramente visto che è partito da poche settimane adesso vado così esco fuori da riparatura devo tornare qua dentro ecco perfetto dicevo Barbara è un risultato importante forse non ve lo aspettavate nemmeno? sì ovviamente speriamo che con Expo e comunque con i turisti che verranno quest'estate saranno ulteriormente incrementati ma diciamo che siamo molto soddisfatti anche per i buoni commenti che comunque sono stati rilasciati diciamo i feedback e comunque anche tramite email i consigli sono sempre ben accetti molto bene quindi dottoressa bisogna essere giustamente anche se a volte facciamo un po' fatica noi ma al passo coi tempi no giusto e credo che la vostra azienda in questo caso specifico ha dato una bella risposta grazie anche alla gioventù esattamente no vabbè ma è giusto sottolinearlo visto che le ragazze appunto sono estremamente giovani e competenti soprattutto e altamente tecnologiche immagino ma credo che questa sia una bellissima risposta sì credo che appunto bisogna continuare ad innovare a innovare anche il nostro settore che è un settore assolutamente tradizionale perché facciamo trasporto pubblico e quindi non è sicuramente un settore di punta tecnologica nel contempo ci sono degli strumenti che possono come diceva prima anche Laura facilitare la vita delle persone quindi rendere semplice anche la fruizione del mezzo pubblico perché non dimentichiamoci che comunque andare sul trasporto pubblico può essere una facilitazione per la qualità della vita oltre che dell'ambiente ma proprio per la qualità personale perché noi dobbiamo fare in modo che le persone vengano sul trasporto pubblico perché lo ritengono conveniente sotto tutti i profili quindi anche sotto il profilo non solo economico ma soprattutto della rapidità del trasporto e della fruizione quindi si può dire che ASF nel corso di questi anni ha sicuramente potenziato la flotta l'ha migliorata perché i bus è sicuramente migliorata poi c'era il problema della tempestività della puntualità ma mi pare assolutamente migliorata anche questo certo questo è anche una variabile perché in strada compilmente certamente dottoressa si trova di tutto e di più quindi ovviamente gli autisti non possono volare ma si fanno del loro meglio assolutamente se qualcuno magari rispettasse di più le corsie riservate ai bus e parlo degli automobilisti sarebbe certamente meglio anche una questione di civiltà propria a volte non c'è e quindi sarebbe meglio comunque è migliorato anche dal punto di vista della puntualità poi rimaneva l'aspetto appunto dei biglietti come abbiamo detto prima perché a volte in alcune località e in alcuni orari c'è la possibilità di fare a bordo direttamente il biglietto quindi se uno arriva anche all'ultimissimo minuto può salire senza problemi prima non si poteva e poi ciliegina questa app io credo che adesso il prossimo passo non so quale può essere non so se metterete le ali dei pullman sto scherzando ovviamente ci stiamo pensando questo è sicuramente no qual è l'obiettivo ancora di ASF poi chiudiamo con le ragazze diciamo che sicuramente quello che dicevo prima il fatto di aver introdotto anche l'utilizzo dei tablet che per noi è sistema di localizzazione dei mezzi ci dà la possibilità di avere in tempo reale le informazioni ai clienti e quindi sapere tempi d'attesa dell'autobus delle corse ma dà anche uno strumento che sicuramente è meno visibile per i passeggeri se non a posteriore che è uno strumento anche di programmazione quindi se vediamo cosa che abbiamo stiamo facendo che una corsa è costantemente in ritardo vuol dire che oggettivamente l'orario è da rivedere e quindi bisogna anche adeguarsi con delle condizioni questo è molto interessante giusto perché quando esatto voi andate voi l'ufficio proprio preposto a stilare i vari orari tenete conto anche bisogna tenere conto anche delle variabilità cioè quella del traffico soprattutto ovviamente e negli anni oggettivamente le condizioni di traffico possono essere cambiate in maniera anche molto importante possono essere cambiate nei due sensi nel senso che nella logica del traffico uno dice il traffico aumenta nell'altra ci possono essere dei tempi di percorso perché sono state fatte delle rotatorie delle varianti lavori in corso che hanno portato a delle modifiche di tempi di percorso per cui ci sono anche per dei tempi di passaggi intermedi quindi non per forza di capolinea di passaggi che possono essere modificati o che vanno modificati nel tempo e che quindi è corretto adeguare gli orari a questo tipo di nuova situazione perfetto quindi direi che abbiamo veramente fatto un quadro completo ed è giustamente abbiamo voluto farlo oggi assieme agli amici di ASF qui a Como Cafè sentiamo adesso Laura e poi Barbara per chiudere allora ricapitolando arriva ASF si scarica sul proprio telefonino e si ha non solo l'orario della linea di interesse il ritardo eventuale ma anche cosa andare a vedere per dire a Como che cosa c'è da vedere giusto Laura? si 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 c'è tutta una parte appunto che è la parte per scoprire dedicata al territorio c'è la parte shopping con tutta la scontistica riservata ai clienti che speriamo di incrementare e poi ci sono anche appunto ad esempio le news in tempo reale prese dalle principali testate giornalistiche eccetera e così via se ci sarà anche Ciao Como mi fa molto piacere lo metteremo assolutamente assolutamente sì ci fa veramente molto piacere essere presenti sugli utenti di ASF ci fa davvero piacere visto che il nostro slogan è informazione in tempo reale ovviamente ci piace essere presenti ci fa davvero molto piacere sarete anche all'interno dell'appo perfetto questo è molto molto bello no perché poi credo ho visto anche l'altra volta quando ho usato il mezzo pubblico i ragazzi in modo per tempo sul pullman lo passano solo ed esclusivamente col cellulare in mano assolutamente adesso possono passarlo anche giocando un po' con la nostra esattamente loro hanno costantemente il telefono in mano ma è giusto così Barbara che cosa possiamo dire che non abbiamo ancora detto legato a questo importante innovativo servizio se ci siamo dimenticati qualcosa no abbiamo detto tutto ho detto tutto non ho niente da aggiungere perfetto bene allora abbiamo detto veramente tutto credo e adesso a fine puntata vi mostreremo anche come operativamente si va a usare questa app sul telefono è davvero molto semplice molto facile intuitivo come dicevamo prima con Laura perché così almeno uno può avere sotto mano proprio in tempo reale anche la situazione del proprio viaggio di quando aspetta il pullman beh che dire io vi ringrazio davvero innanzitutto di essere venuti a trovarci ci ha fatto davvero molto piacere offrirvi un caffè vi riaspetto magari più avanti ci fa davvero molto piacere perché è un'azienda importante l'azienda del trasporto pubblico di Como che come abbiamo visto oggi e ce l'ha detto Anna Rita Polacchini funziona anche con i numeri perché a volte ci sono le parole no dottoressa però qui ci sono anche dei numeri concreti sì direi che ci sono almeno mi sembra in questi anni qua anche che i fatti lo dimostrino che ci siano entrambe le condizioni la nostra missione principale è comunque quella di trasportare i nostri passeggeri i nostri clienti nel miglior modo possibile ed è questo lo sforzo che stiamo facendo con anche tutte queste innovazioni quindi la comunicazione quindi stiamo rinnovando anche l'immagine del sito e quindi ci saranno novità anche sotto questo profilo qua nei prossimi mesi mira appunto a dare un servizio sempre migliore ai nostri clienti perfetto benissimo allora è tutto io vi saluto ripeto iscrivetevi al nostro canale di Como Caffè poi tra poco vi mostreremo anche il dettaglio di questa bellissima app arriva a SF allora con Como Caffè noi ci fermiamo qui ci vediamo dopo Pasqua ovviamente auguri a tutti voi da parte di Ciao Como e degli amici di Immagine Più qui a Lora nella sede di via Spalanzani grazie ad Anna Rita Polacchini a Laura Carcano e a Barbara Ligregni per essere stati con noi a quest'oggi all'interno di Como Caffè Ciao a tutti buona giornata e buona continuazione ancora con i nostri programmi Ciao Ciao a tutti Grazie per la visione!